Buonasera, ben ritrovati, un ospite speciale per la nostra serie degli incontri, il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, Sindaco, ben arrivato, grazie molto per aver accettato il nostro invito, allora un anno possiamo dire vissuto pericolosamente, un anno difficile, lei con molto coraggio ha preso in mano questa città che è stata piena di problemi dopo tante giunte del Rosso Verdi a questo punto, dopo un anno cosa ci può dire? È stato un anno effettivamente vissuto molto pericolosamente, posso dire che ci ho messo tanto impegno, che ci ho messo tanta passione e che però mi ha sostenuto l'affetto di tante persone, di tanti amici, di tanti cittadini che effettivamente vogliono che la loro città cambi, noi vogliamo una Venezia migliore, più bella, più pulita e che però anche insieme a questo, più sicura, riesca a dare un futuro ai nostri bambini e ai bambini delle persone che credono ancora che in questa città ci possa essere un grande futuro e quando io dico che il futuro deve ripartire da mestre, lo dico nel senso positivo allargato, da mestre vuol dire non trascurando nessuno, ma voglio intendere che parta dalla periferia, dal luogo dove vivono le persone, è chiaro che ogni eccellenza, è evidente che il centro storico è la nostra eccellenza, lo sa il mondo intero, lo sa anche il sindaco di Venezia, per cui ancora una volta ho assistito per tutto l'anno a strumentalizzazioni veramente stucchevoli di ogni parola, di ogni frase che si dice, per cui ho scelto di parlare poco, di rispondere poco sui giornali, veramente poco, con qualche tweet e basta, sono riusciti a fare polemiche anche sui tweet, è che non sanno più dove attaccarsi, io invece a differenza di prima voglio veramente cambiare la città, insieme a me lo vogliono cambiare i cittadini e le persone che lavorano, queste proprio in maniera trasversale sono proprio stanche di quell'andazzo dei discorsi continui, noi abbiamo l'ultima delibera fatta la settimana scorsa, per cui a chiusura di un anno appunto vissuto pericolosamente abbiamo deliberato la ristrutturazione del comune, qui passiamo da 23 direzioni a 11, con una rotazione, un deliberato congiunto assieme all'anticorruzione praticamente, noi facciamo dare un giro di acqua alle persone, vediamo un po' di mettere i talenti migliori nel luogo migliore, sarà adesso evidentemente da dare spazio proprio a questi giovani, a queste persone del comune che hanno capacità e che spesso anche quelli senza tessera venivano messi ghettizzati, messi da parte, altri invece capaci o competenti venivano messi in altri ruoli, si hanno create conventicole di ogni genere legate alla politica, alleanze, ognuno teneva il suo assessorato, le sue differenze, le sue municipalità, lo dico ai cittadini perché è giusto che lo sappiano, la disgregazione della città è davanti agli occhi di tutti, ma la motivazione era questa, una vecchia politica, vecchia degli ultimi 20 anni, che non aveva coraggio di dire le cose sinceramente alle persone e io abbiamo detto, io per la prima volta insieme alla mia giunta, al mio assessore Michele Zuini abbiamo fatto i conti e le pulce al bilancio, come avevamo detto, e nel bilancio consolidato, comune e partecipate, abbiamo trovato che mancano, ci sono debiti, chiamateli come volete, per 800 milioni di Euro e qualcuno mi ha risposto l'altro giorno che sono debiti fatti per la modernizzazione della città, la domanda è dov'è sta modernizzazione, per me sono debiti, punto, e qualcuno mi consigliava, sindaco ma che ti frega, fai un altro buco, fai un altro debito, butta il pallino avanti, ci penserà qualcun altro e io ho detto no, questa volta no, per quei bambini, per quei ragazzi che oggi non vanno a votare, ma che domani si troveranno i risultati di quello che noi abbiamo fatto, siamo degli scellerati se continuiamo a fare debito, siamo degli scellerati se non diciamo la verità e siamo degli scellerati se non cominciamo ad amministrare quei soldi che abbiamo, pochi, pochi purtroppo pochi, per cui mi rendo conto quante cose e accidenti che devo ancora fare, non c'è dubbio, però immaginatevi a dover fare le cose senza avere niente, prendere un comune in mezzo alla stazione turistica con 30 milioni di turisti, senza una lira, con debiti incredibili dappertutto, col bilancio che non si chiudeva, poi racconteremo magari, avremo tempo anche, sarà anche la storia poi a raccontare quello che c'è, ma la cosa che a me sembra importante dire adesso come proprio introduzione è grazie di cuore a tutte le persone che continuano a sostenere la città, la propria città, Venezia di tutti, quella ampia città che secondo me mi inorgoglisce e mi apre il cuore a pensare che questa città da sola, con la testa alta, abbiamo chiesto, chiederemo, svilupperemo, aggiorneremo, ma siamo tanto, tanto orgogliosi di dire ce la faremo da soli. Sì, lei ha descritto molto bene secondo me un sistema clientelare dove ci sono le parentopoli, dove ci sono 10 mila dipendenti, contando anche le partecipate, insomma una città che ricorda un po' un porto delle nebbie, che lei ha dovuto in qualche modo modificare andando incontro a tutti questi, appunto a tutti gli interessi particolari, ai sindacati, a tutti coloro che non vogliono il cambiamento, quindi bastoni tra le ruote a tutto spiano. Come fa ad andare avanti in questo clima incandescente dove c'è una contrapposizione enorme nei suoi confronti? Ma andiamo avanti con la legge, andiamo avanti, io ho detto anche l'altro giorno quando abbiamo fatto un po' il bilancio, perché poi altre cose dette, parole proprio in libertà da persone che hanno amministrato negli ultimi anni e che giustamente devono fare opposizione, questo è giusto, sarebbe bello, ma questo è solo nei miei sogni, un'opposizione che mi pongolasse su cose concrete, su situazioni vere, invece vanno a cercare cose di minimo conto e soprattutto anche, dicono anche tante cose false, proprio false, uno l'ultimo ha detto ma dov'era il buco, non c'è mai stato un buco, no siamo qua a protestare per niente, stiamo a quello che vediamo, la gente quando mi sono candidato faceva il bidet, il bidet sulle fontane pubbliche, mi sono diventato io questo, se non sono diventato i cittadini di voler cambiare la città, è una sceneggiata incredibile, ecco io questa politica non riesco a vederla, a me faceva schifo la politica prima, mi fa ancora più schifo adesso, mi fa schifo l'idea che una persona pensi di ragionare per il proprio tornaconto personale, nessuno sottolinea che io sono un sindaco a gratis, varà poco, per carità, varà poco, mi rendo conto, diciamo ma tanto può permettere, trovatene un altro intanto, che si fa 16 ore al giorno per migliorare le cose della sua città, come farò? Con la legge, con la trasparenza, con le norme, la farò assieme a tante persone, perché la cosa che non appare è che la stragranda maggioranza dei cittadini non ne può più, vogliono cose concrete e noi stiamo facendo nel nostro piccolo, ci rendiamo conto piccolo, però stiamo facendo cose concrete che segneranno il futuro, che segneranno il futuro di questa città, perché una riorganizzazione con quella che stiamo aggiornando, abbiamo fatto, 15 giorni fa abbiamo approvato, dopo mesi di discussioni di verifiche anche legali, perché è ovvio che se noi facciamo, considerate sempre intanto che io come cittadino entro nella macchia comunale, non sapevo la differenza tra una determina e una delibera, ero molto motivato nell'imparare, perché io vengo dal privato, mi hanno accusato che sono un imprenditore, quasi che fosse una vergogna, ma di cosa devo vergognarmi, perché sono un imprenditore, ma io ne dico con orgoglio, sono un imprenditore prestato alla politica e vorrei portare un po' di buonsenso del privato nel pubblico, un po' di buonsenso, ho trovato tantissima brava gente nel pubblico, direttamente nel comune e anche nelle società partecipate, ci sono tantissime, la stragrande maggioranza sono persone che hanno obbedito a ordini, a qualcuno all'inizio i dirigenti venivano e fanno, sindaco mi dica a lei cosa devo fare, io devo dirti cosa fare, tu sei un dirigente, devi cominciare a muoverti con la tua testa e risponderai per le azioni che sei o non sei capace di fare, io ti devo dare un indirizzo politico, è chiaro che in questo momento abbiamo spostato quando sono arrivato per mantenere i patti elettorali il direttore generale, l'abbiamo messo nella polizia municipale perché siamo senza un direttore generale, avevo tempo per trovarlo, ho trovato delle candidature, ma non mi andavano bene e siccome il direttore generale non è il mio, è il direttore della città e allora non l'ho preso, adesso abbiamo il blocco del patto di stabilità per cui sto continuando a lavorare spesso da me per riuscire a vedere le documentazioni, ma se oggi vengo addirittura accusato che sto facendo tutto io, cosa che non è vera, nel senso che abbiamo dimostrato anche l'altro giorno che c'è una giunta, ci sono un sacco di assessori, tantissimi consiglieri, tutti i dirigenti, è evidentemente una cosa palesemente falsa dire il sindaco fa tutto lui, è vero questo sì lo dico, che controllo le cose che devo fare, devo imparare a capire come funziona la città, proprio per restituirla al prossimo giro, una città efficiente, intanto che faccio questo c'è qualcuno che pensa a fare un referendum per separare Mestre con Venezia e allora giustamente a Zellarino si incazzano e dico vogliamo Zellarino autonomo, magari anche Favaro e perché no Marghera, invece che andare verso una città grande che deve far concorrenza ai porti del nord Europa, far concorrenza a Parigi, portare via qualche agenzia pubblica europea che c'è a Londra che adesso è uscita dall'Europa, noi dovremmo andare là e dire venite da noi, no noi ci dividiamo, faremo scaltenigo autonomo, allora questa roba qua è una scelta che va data in capo alla città, va data in capo ai cittadini, siccome sono molto per una più intelligenti dei politici, sono più intelligenti di questi quattro che sfruttano il nome della città, quelli sì, loro sì, perché i temi sono veri, i temi del decoro, i temi della pulizia, i temi della sicurezza, sono verissimi, su questo saremo sempre insieme, saremo sempre insieme a risolvere i problemi, perché un problema è talmente evidente, chi è che lo vuole negare? Sarebbe un folle uno che lo nega, il punto è che armi ha il sindaco specificatamente, se non ha armi, penso per esempio all'ordine pubblico, non ho poteri per poter portare via una persona ubriaca e dargli una nota di galera, non ce li ho, abbiamo fatto come Consiglio Comunale addirittura una delibera, un ordine del giorno approvato dai nostri perché l'opposizione ha tolto il tesserino per non votare e abbiamo detto, cerchiamo di averli dal governo, il governo sta facendo delle norme positive, solo che sono ancora ferme, che diano poteri minimi al sindaco per il decoro urbano, per la sporcizia, per l'ubriaco molesto, per queste cose qua e a quel punto non serve fargli il processo, il carcere, le teniamo una notte in cella, gli diamo 500 euro di multa la mattina dopo, ecco su questo, facciamo tutti insieme, facciamo insieme e io mi prendo la responsabilità di farlo, oggi giorno noi stiamo arrestando le persone, spacciatori, prostitute, ma anche tutta una serie di personaggi borseggiatrici che vengono anche da fuori, le arrestiamo una, l'abbiamo arrestata 13 volte, 13 volte ti ride in faccia e va via, figuriamoci se sono arrabbiati i cittadini cosa devo dire io, siamo arrabbiati su questo, è chiaro che stiamo però anche facendo una grossa pressione, una grossa pressione e continuiamo a fare l'elettro sindaco, cosa dobbiamo fare a questo punto? Continua ad arrestarla, tu continua ad arrestarla, dobbiamo presidiare la città, ovviamente per mettere i vigili in strada, oggi sembra normale, ma ci hanno fatto manifestazioni, ci hanno denunciato per il comportamento del sindaco, sempre alcuni, no tutti, no io non ce l'ho domani, Brugnaro ce l'ha con i vigili urbani, ma quando mai? Io li ringrazio tutta la vita, io ringrazio tutta la vita i dipendenti comunali che ci credono, perché anche la loro città, i bambini sono anche i loro bambini e le donne sono anche le loro donne, dobbiamo salvaguardare la sicurezza, la sicurezza in questa città, uno deve camminare tranquillo perché così riesco ad attirare gli investimenti e a produrre lavoro, produrre lavoro si fa con le gambe dei privati, degli investimenti privati internazionali, che questi arrivano se li do una città più bella, più pulita, più pulita, più ordinata, più sicura, dobbiamo risolvere per quanto riguarda Porto Marghera le bonifiche, siamo andati a avanti molto, ufficialmente non c'è nulla, non c'è nulla, ma che tipo di documento abbiamo? No, abbiamo fatto un'agenzia di sviluppo, fatta, questa sì, l'avevamo promessa, l'abbiamo fatta, ma la base di tutto è un accordo col Ministero dell'Ambiente e la Regione Veneto con cui stiamo lavorando bene, devo dire, su Marghera bene, stiamo lavorando in silenzio perché è inutile fare pubblicità o fare conferenze stampa, andare a fare i titoloni quando ancora non hai qualcosa di concreto. Appena siamo in grado di concretizzare questa cosa evidentemente la spiegheremo nel dettaglio, l'idea è quella però di semplificare, di cambiare quelle regole assurde che c'erano nelle bonifiche dei terreni perché con quelle regole non è economicamente possibile intervenire. Attenzione, non è una cosa che dico io, sono vent'anni che la storia ci insegna questo. Ho trovato un Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Galletti al suo tutto capo del Dipartimento specifico, che ha una grande disponibilità nei confronti della città di Venezia, non del sindaco di Venezia, non c'è una questione personale, nei confronti della città e io li ringrazio di questo, come ho ringraziato il Ministro Alfano per quella collaborazione che ci ha dato in tutto l'anno perché ci abbiamo messo i militari di strade sicure, l'operazione perché il Viminale ci ha detto di sì, siamo andati, ci abbiamo spiegato, abbiamo trattato, abbiamo ragionato e ci hanno aiutato. Perché nasconderlo? È un governo, tra l'altro cose l'NCD è anche il governo della città e ci hanno aiutato, ci stanno aiutando tutti, alcuni continuano a protestare perché non è mai finito, va bene lo stesso, ci sta sulla sicurezza, abbiamo un cammino grandissimo da fare, ci sono anche qualche problema sulle norme, quella roba lì va messa a posto, abbiamo il patto di stabilità bloccato e avevamo già messo nel bilancio 70 vigili urbani, a parte che avevamo 70 posti di lavoro, ma a parte questo riuscivamo a irrobustire il corpo che oggettivamente nel tempo è andato via via, abbiamo 370 vigili in un perimetro di 3 mila dipendenti comunali, dobbiamo ribilanciare le cose, è evidente che questi vigili stanno facendo un lavoro in mano e per come la vediamo noi, adesso anche sulla strada, adesso anche vicini ai cittadini, qualcuno di loro, qualcuno forse l'abituato a non fare, bisognerà che prendano atto che gli azionisti della città, che sono i cittadini, hanno detto in strada bisogna andare a risolvere i problemi e in strada andiamo a risolvere i problemi, andremo insieme, ci vado anch'io, quando posso ci sono andato ci andrò ancora, dobbiamo risolvere i problemi. Sindaco, quindi partecipazione per quanto riguarda l'ambiente e la sicurezza, diceva da parte del governo, lei ha incontrato diverse volte Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, a che punto è il rapporto con l'esecutivo dal punto di vista risorse? La famosa legge più attivo, i soldi che però mancano ancora? Io ho sempre detto che sono un filo governativo, sono sempre stato e resterò filo governativo, a prescindere, perché credo che governare sia sempre difficile, è sempre facile vedere i propri problemi, si fa fatica a voler riconoscere quelli degli altri, sono filo governativo in regione, sono filo governativo a livello nazionale, per quanto mi riguarda la leale collaborazione con la regione e con lo Stato e con il governo Matteo Renzi o per un altro, o dovesse essere, è un atto dovuto per una città come Venezia, è impensabile che ci si metta a fare i pierini della situazione, si contesti tutto su tutto, troppo facile sarebbe, questo dovrebbe farlo questo, quello dovrebbe farlo quell'altro, non è colpito mio, non è colpito, io questo discorso non l'ho fatto, non ho fatto neanche l'elenco delle colpe, dal mio punto di vista ovviamente ci sono, ma non le ho fatte, un anno intero di silenzio, quando continuavo in certi casi essere attaccato su cose che francamente non erano la mia responsabilità, perché credo che dobbiamo tirare una linea, l'avevo detto in campagna elettorale, tiriamo una linea e andiamo oltre, è inutile che ci attardiamo, che il sindaco si attardi a fare le indagini e a dire che è colpa di questo o di quello, oggi il sindaco è lì per dare un progetto alla città, abbiamo presentato il mese scorso il piano delle opere e il piano del sindaco, è una visione generale di città che non c'era, può essere accettata o non accettata, può piacere o non piacere, poi le elezioni servono anche a questo, ma questa visione era quella che abbiamo proposto in campagna elettorale e per cui abbiamo avuto i voti dei cittadini, i cittadini hanno voluto che a Porto Marghera si sviluppi non soltanto la manifattura e deve svilupparsi avanzata, deve svilupparsi il porto, i cittadini hanno voluto il porto, i cittadini vogliono ancora le navi da crociera alla marittima, l'ho scritto per quel disegno che abbiamo presentato al governo a novembre, per cui noi i piani per le navi da crociera, insieme al porto per la prima volta comune e autorità portuale assieme e congiuntamente, abbiamo presentato prima la proposta a novembre e poi i progetti esecutivi a febbraio, perché ci voleva il tempo per prepararli e sono stati presentati, ce li hanno alla commissione via, poi se a Roma hanno 2000 commissioni e c'è la burocrazia che ci sta mangiando anche il sangue, questo non è colpa mia, proprio non ne posso fare niente, ma io sono stato coerente con i cittadini, ho fatto vedere il percorso che avrei proposto e esattamente quello l'abbiamo presentato al governo, abbiamo nel piano strategico della città abbiamo detto sì all'aeroporto, a parte che non si è scontato evidentemente, però mi sono scusato anche con Enrico Marchi che ha gestito l'aeroporto fino adesso ed è stato sempre oltraggiato, a prescindere adesso dalle situazioni singole dove magari non è detto che dobbiamo essere sempre d'accordo, ma è evidente che una città deve sostenere i propri migliori talenti, abbiamo dei personaggi, Costa che gestisce il porto, penso uno delle poche persone in Europa che conosce le leggi europee, i sistemi di finanza pubblica, cosa sono le navi, visto che se ne occupa veramente da tanto tempo e conosce bene la nostra città, adesso c'è il rinnovo, io spero che lui sia ancora un nome che il governo possa pensare di fare, per me è la prima scelta sicuramente, in politica non si fa così, se lo abbia sta a Zitti e poi non si sa mai, per me è lui la prima scelta e spero che succeda questo, nell'interesse della città, non mio, ho messo io, lui era già sindaco quando io ero ancora bambino, Enrico Marchi, per fortuna ce l'abbiamo, ha un caratteraccio come il mio, ma chi è che non ha un carattere, non ha un caratteraccio? Lui difende una cosa, difende l'ha fatta bene, dobbiamo vedere gli aerei, partono da Venezia e arrivano, succedono inconvenienti, su quello casomai si può ragionare e lui penso sia disposto a parlare su come risolvere le cose concrete, ma fare discorsi ideologici, parte di questo, parte dell'altro, ma chi se ne frega, basta che prenda una, a me interessa che l'aeroporto funzioni, che sia all'interno della città, che renda la città, possiamo dire di no, possiamo dire che non funziona, allora bisogna essere un po' oggettivi sulle cose, abbiamo delle aziende, il turismo, il turismo è la prima industria, io sono il primo a sperare che riparta la manifattura, lo dico da anni questa cosa, ma è altro, l'oggettivo che oggi è la prima industria in città che dà lavoro a tantissima gente, cosa facciamo? Diciamo che non lo vogliamo il turismo noi, magari sono gli stessi che poi quando gli chiudi una calle un giorno si mette sigare come matti, ah non c'è gente che passa, allora dovrebbero passare il giusto, non troppo, non troppo meno, questo sì ma questo no, la realtà è che i conti della cassa non tornano a fine giornata, uno si arrabbia, ecco allora penso che anche sulla gestione del turismo, noi non abbiamo le deleghe di chiudere la città, non è che non vogliamo chiudere, io la chiudo domani mattina, metto la tassa per il biglietto di entrare, domani mattina, non si può, non ci sono le norme europee per farlo, stiamo lavorando molto bene con Ferrovia dello Stato per vedere se troviamo un modo soperandi per aggiungere sul biglietto del treno un ticket che non è una tassa, ma è un servizio che noi diamo, pensavamo a una piantina sui servizi igienici della città, sui regolamenti, sugli orari, su come visitare il luogo, in maniera tale che questo non è più attaccabile e effettivamente diventa un contributo reale di cui la città ha assolutamente bisogno. Nessuno dice che è il Parlamento che fa le leggi e non è il Comune di Venezia, se il Parlamento non ci sblocca una serie di diritti che noi pensiamo di avere, come la gestione di un centro storico così particolare come quello di Venezia, oltre a fare pressione, oltre a spiegare, oltre che a fare fascicoli, oltre che andare continuamente a fare riunioni con i parlamentari, con il governo, con le commissioni parlamentari, perché c'è tantissima burocrazia su questo, che altro possiamo fare? Per cui benissimo qualsiasi iniziativa che possa mettere in condizione la città di avere delle particolarità, delle specificità che ci possono aiutare a gestire anche finanziariamente dei costi, degli extra costi che abbiamo assolutamente commissionato, abbiamo relazionato e abbiamo spiegato nei luoghi importanti a Roma. Credo che queste cose siano capite, si fa fatica a entrare, perché noi non avendo avuto padrini politici e non vogliamo padrini politici che siano quelli che ci dicono come le marionette che cosa dobbiamo dire, noi diciamo quello che vogliono i cittadini di Venezia, io porto la maglia di Venezia, di città di Venezia e per cui come tale risponderò a questi cittadini, ed è giusto che uno sappia, poi leggi sul giornale che il parlamentare X o Y si straccia le vesti e poi vai a vedere e fa parte della maggioranza di governo e dici questo è veramente incredibile. Poi siccome sarebbe polemica tutti i giorni, perché questi cercano visibilità e basta, faccio un sorriso, giro pagina e leggo qualcos'altro, vado allo sport. Senta Presidente, torniamo alla città metropolitana, che è un progetto a cui lei tiene moltissimo, questo referendum separatista è un tentativo di bloccare questa ipotesi? Sì, diciamo secondo me più che un dedo di bloccare questo è anche una cosa palesemente antistorica. Allora, bisogna parlarne con molto garbo perché poi ci sono persone, diciamo non quelli strumentalmente interessati, penso agli avvocati che non hanno avuto successo nella loro professione o qualche funzionario che è in regione, voleva diventare sindaco, poi non è sindaco, poi voleva fare il direttore generale, poi i soldi non gli bastavano, si è dimesso anche da consigliere. Ecco, allora dico, se parliamo di questi, questi non li convincerai mai, perché questi puntano al malloppo, comunque ha un tornaconto personale, visibilità di professione, che può andare anche bene, per cui a loro non gli frega niente separare in uno, due, tre, cinque, l'importante è avere un posto al sole. Per cui va bene qualsiasi manifestazione pur di essere presenti, farsi vedere, quando è il momento però di fare effettivamente il lavoro duro, quelli non ci sono mai, ma questo è un discorso. Altro sono le persone che in buona fede cercano di capire, ma sta separazione, cos'è? Questi hanno raccolto delle firme quando c'era la provincia, il primo punto va vista la legittimità di questo referendum, perché è una questione anche di serietà, le cose vanno fatte con serietà, io sono un pignolo, cerco di capire. Tra l'altro hanno sempre perso i separatisti, diciamo. No, appunto, la prima cosa è questa, intanto uno dice, ma sindaco facciamoli votare, dico attenzione, non è che su questo tema Venezia non si sia votato, abbiamo già votato quattro volte, su quattro volte, pensate che l'ultima volta ha vinto il partito dell'astensionismo, perché non si è raggiunto il quorum, ma la cosa da ridere è che chi è andato a votare ha vinto ancora anche nell'elezione l'Unione, cioè la separazione è un dramma per questa città, è una stupidaggine di carattere cubico, ma prima di entrare nel tema che allora sarà oggetto di campagna referendaria, culturale, spiegheremo, sentiremo le po' e poi dopo alla fine i cittadini hanno sempre l'ultimo giudizio, ma prima va visto, se è legittima sta cosa, allora vi spiego, in parole semplici, perché poi gli avvocati ti fanno queste pipe, questi hanno raccolto le firme, 9 mila firme e chi ha firmato ovviamente, io do subito il beneficio di inventario, che aveva fatto sicuramente le scelte sue, ponderate, positive, massimo rispetto per le 9 mila firme, un po' meno per alcuni che manovrano dietro le quinte, ma non tutti neanche lì, ma le hanno raccolti in un altro momento, quando c'era la provincia, la legge del Rio ha eliminato le province, ha fatto nascere la città metropolitana, per cui la città metropolitana ha un percorso che è già previsto dalla legge, che nel caso in cui tu vuoi far votare tutti i cittadini della città metropolitana, come io sono d'accordo nel fare, bisogna separare il comune. Cosa è successo? Quando siamo andati a fare lo statuto della città metropolitana, tutti i sindaci, i consiglieri metropolitani e i sindaci della città metropolitana, tutti quanti all'unanimità, abbiamo votato, alla fine la dico semplice, lo statuto, che oggi è statuto della città metropolitana e abbiamo detto, vogliamo tutti quanti il voto dei cittadini di tutta la città metropolitana, senza separare il comune di Venezia, perché vorrebbe dire, indebolire evidentemente a livello europeo e mondiale un brand, un marchio, una storia che invece ci interessa essere più viva che mai. E allora quando ti è stato detto nello statuto della città metropolitana che non si può separare la città, primo. Secondo, la legge del Rio, che è stata, in qualche modo, ha già passato un vaglio anche costituzionale, perché quando è stata promossa la legge del Rio e votata, la Regione Veneto, assieme a tante altre Regioni, hanno fatto una contestazione, hanno fatto un ricorso alla Corte Costituzionale per incostituzionalità della legge, su una serie di punti, tra l'altro non hanno avuto nulla da eccepire sul punto che diceva che il comune di Venezia non è dividibile. Attenzione, questo è interessante, non hanno neanche eccepito questo, la Regione Veneto, hanno eccepito su altre cose. La Corte Costituzionale si è già pronunciata, per cui c'è già anche la sentenza della Corte Costituzionale che dice che rigettiamo tutte quante le contestazioni delle varie Regioni, perché non c'era solo la Regione Veneto, anche altre Regioni avevano, e per cui ha detto che quella legge è perfettamente costituzionale. Cosa dice questa legge? Dice che ove si volesse separare il comune di Venezia per entrare di nuovo nello specifico, bisogna che sia il Consiglio Comunale, lo dice la legge con chiarezza, che decide e vota la separazione. Primo. Secondo, e questo è il percorso che è delineato dalla legge, che è costituzionalmente attiva, efficace. Una volta che il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato la separazione, cosa che noi non abbiamo nessuna intenzione di fare, e l'abbiamo dichiarato e l'abbiamo votato l'altro giorno, a grandissima maggioranza, noi non vogliamo separarci, e poi la Regione dice che vuole fare quello che vuole la collettività. Ecco, noi non vogliamo separarci, lo diciamo chiaramente. Secondo, a quel punto, se noi, il Consiglio Comunale di Venezia, solo il Consiglio Comunale, decidesse di separarsi, la Regione dovrebbe indire un referendum dove andrebbero a votare non i cittadini di Venezia emesse soltanto, ma a tutti i cittadini della città metropolitana, cosa anche questa che non è in questo referendum. Allora, io ho detto alla città, e lo ripeto adesso anche a tutti quelli che ci ascoltano, prima, il primo cittadino di questa città e della città metropolitana, perché io sono anche sindaco, per forza di cose, siccome i cittadini non è che si occupano di questa roba tutti i giorni, dice, guardate Regione Veneto, se voi fate, andate avanti lo stesso, fregandovene di quello che vi sto dicendo, che vi stiamo dicendo da Venezia, che ci state o tentate di ucciderci per interessi di non si capisce bene di chi, noi faremo ricorso al Tribunale per capire se è legittimo o meno questo referendum, in maniera tale che ce lo dirà il Tribunale se è legittimo o no. A quel punto, se è legittimo, noi assolutamente parteciperemo al referendum dicendo le nostre opinioni. Per cui nessuna voglia di impedire ai cittadini di non votare, ma è la quinta volta, sarebbe la quinta volta che votiamo, è come dire facciamo la partita, abbiamo perso l'altro giorno la partita di calcio, facciamo un referendum e rifacciamo la partita, non funziona sempre così. Quante volte dobbiamo votare finché non va bene a qualcuno? Ecco, a Venezia c'è un clima nuovo, c'è un clima di positività, i ragazzi giovani e gli anziani hanno cominciato a vedere delle cose, vediamo che possiamo gestire la nostra città, possiamo gestirla, certo che abbiamo problemi, dopo 20 anni, dopo 20 anni di comunismo, ma per forza ci sono problemi, è una roba impressionante, potrai fare l'elenco fino domani mattina, ma oggi c'è un clima nuovo, si respira un clima tra i cittadini diverso, c'è voglia di fare, ci rendiamo conto dei problemi, siamo i primi e se uno mi fa la lista io la firmo e dico hai ragione, però piccole cose, piccoli segnali si cominciano a vedere, ecco questo è quello che mi premeva a dire per spiegare la storia del referendum. Lei ha parlato giorni fa dello sviluppo urbanistico, anche di Mestre, ha auspicato che ci sia un'edilizia verticale, quindi immaginiamo uno skyline che un domani si possa vedere dalla laguna, questo skyline di grattacieli che è un po' la linea delle grandi city. Sì, che poi abbiamo messo nel piano, io invito tutti, siccome a parte che è gratuito abbiamo rifatto il sito del comune da poco, anche lì l'abbiamo fatto vedere l'altro giorno, ma ci abbiamo lavorato dei mesi per fare le cose, perché poi siamo arrivati proprio fiondati lì a furor di popolo, anche per la stessa inconsistenza delle candidature che c'erano, io non ho vinto per meriti particolari, ma forse per meriti altui, che insistono e continuano a esserci, per cui io mi sento una persona normalissima che è prestata lì, che certe volte ha gli occhi e dice mi pare impossibile che sta roba possa essere così, e cerco di spiegare, torno dai miei concittadini che mi hanno votato e gli racconto quello che trovo e quello che stiamo facendo. Quindi nessuna idea di voler essere eroe, ma semplicemente di voler essere una persona per bene, tutto qua. E allora dicevo, lo skyline, se voi guardate lo skyline, in questo piano degli interventi che potete scaricarvi dal sito del comune, PI, piano degli interventi e piano del sindaco, questo piano, lo spiego a tutti per dare un'informazione, è un piano previsto dalla legge che è operativo già rispetto a una proposta che il privato può fare all'amministrazione pubblica. Voi leggetevi il piano degli interventi, che non si tratta soltanto di piani indilizi, ma possono essere piani anche di intervento sociale o altro, per adesso noi abbiamo iniziato un percorso che ci porterà all'approvazione del piano degli interventi fra due anni. Cioè il Consiglio Comunale alla fine approverà questo piano degli interventi e diventerà praticamente un nuovo piano regolatore. Ma già da oggi, da quando l'abbiamo, anche dall'altro giorno, che l'abbiamo approvato, questo piano degli interventi, nelle sue linee guida, leggetelo perché in qualche modo spiega abbastanza quello che vogliamo fare, se si è in linea con quelle impostazioni, il privato, l'associazionismo, chiunque, le istituzioni che vogliano, possono presentare al Comune una domanda di collaborazione, di intervento e noi possiamo approvare quell'intervento. L'importante da parte dell'amministrazione è che ci sia un vantaggio pubblico, per cui ecco, leggetelo perché non è un libro dei sogni come qualcuno dice, è una cosa operativa. va, se qualcuno ha degli interessi, se qualcuno ha degli investimenti da fare, domani mattina noi gli firmiamo tutto, se è in linea con quel piano, con quello sviluppo, che crea i posti di lavoro è il primo obiettivo e che siano investimenti veri, noi chiediamo solo questo, niente di più, diciamo anche che non pensiamo a la mega struttura come facevano gli altri spesso, arriva uno al Lido e fa tutto, noi preferiamo tanti interventi divisi, in maniera tale che se qualcuno, qualcosa non va bene, come è normale che sia, qualcosa parta, a me interessa nella mia amministrazione riuscire a vedere qualche gru che inizi a vedersi, ecco, perché è chiaro che i tempi che ci sono non è che arrivi con la burocrazia, le cose, però è evidente che questo è un dato significativo. Lo skyline, ma se voi andate dal tronchetto e guardate verso Venezia, lo dico a tutti, magari ci passerete qualche volta, alla sera soprattutto, voi la vedete già alla città metropolitana, ci sono già le altezze, noi abbiamo detto l'altezza, la verticalità, ne parliamo di verticalità soprattutto a Marghera, soprattutto a Porto Marghera anzi per specificare, le aree più destrutture, quali aree della verticalità? La vecchia zona industriale e la zona parallela a Via Fratelli della Libertà, non in tutta Porto Marghera, perché in altri luoghi invece sono deputati alla manifattura, all'industria, quella che c'è prima di tutto, quella va a difesa, ma poi anche in tante altre aree che sono destrutturate da bonificare, c'è da dove possiamo attirare imprese moderne, magari se il governo dovesse mettere anche Venezia insieme a Bagnoli e a Milano Expo per darci il punto franco, l'area franca, cioè libera da tassazione, anche a Marghera potrebbe essere messa quest'area, io l'ho tweetato a Renzi, spero che bisogna cercare di non fare polemiche tutti i giorni, è pieno di roba fin qua, adesso non credo che ci sia nessuna volontà, l'aveva già detto a Palazzo Chigi, io mi auguro che invece possa inserire anche Marghera in questa previsione, che poi va approvata dall'Europa, perché non è una roba che fai domani mattina, arriva l'eroe che fa il dibattito e ha risolto tutto, bisogna avere molta pazienza, però non c'è dubbio che questa è una strada molto interessante che l'amministrazione approva assolutamente, per cui nell'area delle manifatture potrebbero essere delle aree di zone franche molto utili, poi ci sono delle aree che sono già state, una è piccola, ma l'idea nostra insieme anche a Paolo Costa è quella di avere una zona libera da dogana, per cui frizon da questo punto di vista, dove la merce non entra in Europa, entra in Italia, entra nel nostro luogo, ma non è entrata in Europa e per cui non deve pagare dogana, non farebbe dogana. Altra normativa ancora che stiamo sviluppando soprattutto sulla zona di Fusina, dove arrivano i mega traghetti, ecco perché dico che è una collaborazione corale questa cosa. Allora, quando voi andate e vedete già queste altezze, noi pensiamo alle altezze fino a 100 metri, sono le altezze già che ci sono quando le accendete, le vedete di notte, vedete tutte queste lucette che sono già le torri dei comignoli, dei fumi, che per sfortuna o per fortuna, insomma, quelli cattivi per fortuna, quelli meno, sono ormai quasi dismessi, molti sono dismessi, vedete queste lucette che fanno questo skyline, per cui lo skyline è quello, non è così forte invece come potrebbe essere su Marghera, anche su Mestre, su alcune aree di Mestre sì, l'area dell'ospedale che deve svilupparsi, noi ci auguriamo, abbiamo lavorato con i privati in silenzio anche lì, anche lì i privati hanno chiesto di avere una prologa di sei mesi per rilasciare gli immobili per il comune e noi lì potremmo fare due scelte, potremmo decidere di farli fallire, diciamo no no, non me ne frega niente, il 30 giugno, io sono un eroe, voglio andare sul giornale, il sindaco è impossibile, mi dai i miei tre padiglioni per poi non sapere cosa farne magari, oppure per quei soldi che abbiamo, a meno che i soldi di metterli a posto sono… e io ti faccio fallire, tu fallisci e restiamo col buco come il buco dell'Iro per nati dieci anni. La scelta di questa amministrazione è una cosa diversa, sarà sempre diversa, sarà sempre andare a favore degli imprenditori, di parlare con le imprese, e questi hanno speso 50 milioni di euro per comprarsi quell'area. Allora penso che sia giusto, corretto, dargli una possibilità. Abbiamo detto va bene, aspettiamo altri sei mesi, facciamo transare oltre, loro ci hanno garantito che le banche a fronte di questa nostra conferma, perché noi abbiamo confermato delle funzioni in più, ricettivo e commerciali in più su quell'area, proprio perché loro, questi privati, riescono a sviluppare, riescono a trovare un investitore che compra questa terra, abbiamo confermato questi provvedimenti, in cambio le banche, che sono di fatto intestatari di tutto quanto, fanno una delibera dove tolgono le ipoteche dagli immobili che devono essere dati al Comune, in maniera tale che noi a quel punto, il momento dopo che abbiamo approvato il Consiglio Comunale, perché io non posso prevedere il Consiglio Comunale, anche se auspico evidentemente che continuiamo ad andare su questa direzione, questo è il mandato che abbiamo ricevuto dai cittadini, il Consiglio Comunale approva queste nuove funzioni, a quel punto la bacca svincola concretamente le ipoteche, e noi ci riprendiamo i tre padiglioni e loro, speriamo, come mi hanno detto, hanno trovato un investitore, riescono magari in tempi brevi a ripartire. È un modo diverso di vedere le cose, non c'è dubbio che c'è un rischio, e dice il sindaco, ma se poi non ce la fanno, ma se non ce la fa un imprenditore, quando mai ce la farebbe un sindaco, una pubblica amministrazione? Cioè, devono sentire tutti, perché ascoltano tutti, da Roma a Milano, al resto del mondo, ai russi, ai cinesi, alle americane, che a Venezia si può fare. Se sei una persona seria, se hai soldi seri, se hai un investimento serio che porta a lavoro, a Venezia il sindaco e la giunta ti faranno fare. Questo è quello che devono sentire tutti, e sarà per tutti così, non c'è conventicola partitica, l'amico, non c'entra niente, noi vogliamo soltanto investimenti seri, persone serie e posti di lavoro, questo ci interessa in tutti i settori, dal terziario avanzato, dove possiamo andare a prendere forse qualche investimento a Dublino o a Londra, adesso che si sta scavando, proprio per portare magari, o nella free zone, dove puoi assumere molte persone, molti ragazzi. Lo stesso vale per le navi da crociera. Esatto, ecco, volevo chiedere proprio, no, per la croceristica, lei ha sempre difeso in funzione dei posti di lavoro un'attività che dà lavoro a 5.000 persone. 5.000, sono diretti e indiretti, sono 5.000 persone. Ecco, gli veneziani spesso chiedono, ma la marittima cederà il posto ad un nuovo porto a Marghera, ci sarà il canale lungo Fusina, com'è? La proposta che dicevo prima è quella che abbiamo presentato in campagna elettorale, insisto questo perché è coerenza, per quello dico non solo un politico, perché il politico se ne frega, invece no, è una questione di coerenza, io ho disegnato questo in campagna elettorale, abbiamo detto, le navi non devono più passare dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca, invece entrano dall'altra parte, adesso entrano a Lido, entreranno a Malamocco dove entrano tutte le altre navi commerciali, percorrono tutto quanto il canale di petroli, c'è una variante che abbiamo chiamato variante trezze, cioè taglia un'isola praticamente artificiale dove ci sono fanghi velenosi, dove li spostiamo sempre sulla stessa isola, cioè non vengono tolti nulla, neanche un grammo esce da lì. Quindi non ci sono scavi? No, viene fatto uno scavo nell'isola, però è prettamente nell'isola, per esempio viene chiusa con una grande cassaforma gigantesca, i fanghi vengono spostati da quella trincea alla stessa isola, per cui non esce niente, quando si è arrivati al Caranto, si lasciano i due bordi fissi, come è stato già fatti, come se fosse un grande immaginamento, si aprono le due testate, si è creata questa variante che va a inserirsi nel canale Vittorio Emanuele, per tornare alla marittima, per cui per noi la marittima diventa centrale, ci sono già stati fatti gli investimenti, adesso l'autorità portuale ha fatto una gara, hanno già dato gli assegnatari, cioè non si può, non può essere che un comune pazzoide si mette in mente e dice se cambia tutto, perché domani ne arriva un altro e si dice cambia ancora, noi dobbiamo avere un po' di coerenza e di costanza, perché investimenti di quella natura lì, li ammortizzi in decine d'anni, non è che domani dici no, ma sai cos'è, siccome comando io, la città è mia, allora io cambio, non funziona così, non funziona nel senso che fai scappare tutti e dicono tu sei un matto, allora noi non possiamo dimostrare questo, poi se un domani, se un domani, attenzione, se un domani qualche compagnia da crociera, ma parlo un domani vuol dire fra dieci anni, non so, più avanti, decidesse di dire ma io mi faccio uno scalo mio personale a Marghera, da un'altra parte, io non vedo niente di male, se ci sono le aree, ci sono le terre, non disturba nessuno, è un'altra cosa, ma oggi il nostro obiettivo, quello che noi abbiamo presentato, documenti ufficiali, sono questi che le ho detto io e solo su questo il Comune è deciso di andare, quindi discorsi se ma domani non ci sono. Non ci sono, lei è stato anche a Trieste recentemente dove a Cosolini è subentrato Roberto Di Piazza, sindaco del centrodestra, questo cambiamento può portare una maggiore collaborazione tra Trieste e Venezia soprattutto in funzione dei porti. Sì, allora diciamo subito, io ho appoggiato Di Piazza, l'ho appoggiato convintamente e lo conosco da tanti anni, devo dire che conosco anche il sindaco Cosolini, conoscevo anche il sindaco Cosolini, purtroppo non era lui il nostro problema, ma era una signora che si è chiamata Serracchiani che per troppo tempo ha pensato che fosse cosa sua l'alto adriatico, allora questa da Presidente del Friuli pensa di comandare su tutto, cioè questa cosa qua non va bene, tra l'altro numero due del Partito Democratico che a questo punto deve spiegare perché queste scelte di volerci portare via traffico, di voler continuare sempre a parlare male di Venezia e Venezia porta qua e ci portiamo via questo, insistenze e interruzioni che non hanno un senso istituzionale che il governo stesso credo non abbia visto con favore. Ecco, per cui dico, siccome io sono abituato a dire pane pane vino al vino, noi abbiamo pensato che di piazza a Trieste andasse molto bene perché Venezia è assolutamente interessata ad avere una grande alleanza dei porti del nord, tutti, nessuno escludo, Capodistria anche insieme. Cioè dobbiamo immaginare che le grandi navi, guardate, vi invito a prendere, adesso non abbiamo la cartina geografica, magari lo facciamo un'altra volta direttore, perché è una cosa affascinante, partire dalla storia di Venezia che passava per Suez, quando andavano le navi, diciamo dopo che avevano scoperto appunto la Cina, c'è la via della Setra, giravano attorno, passavano per l'Etiopia fuori, arrivavano a Cucin, pensate il porto dell'India dove hanno sequestrato i Marò, era un porto veneziano antico. Io ci ero andato tanti anni fa, insomma noi lì avevamo una delle nostre basi importanti, poi da lì si circunnavigava l'India e si arrivava in Cina. Questo era il nostro viaggio. A un certo momento ci sono delle navi, diciamo, molto grandi che girano per i mari, che sono sempre in attività, continuamente, non si fermano mai, sono navi veramente enormi, soprattutto che portano container, TEU. Queste navi, per quanto riguarda l'Europa, fanno base sui porti del nord della Germania, sono veramente decine di porti, molto grandi, e riescono a trafficare qualcosa come 8 milioni di TEU. Tutto il nord adriatico, per dare delle proporzioni, che siamo praticamente nella pancia dell'Europa, riusciamo a fare 700 mila TEU circa, tra noi e Trieste, il nulla, un decimo, rispetto a un'area di competenza che è circa metà dell'Europa centrale. Austria, bassa Germania, Svizzera, paesi dell'est che comunque mangiano e bevono anche loro, importano anche loro e esportano anche loro. Cosa è successo? La grande novità che noi sapevamo, e lo continuiamo a dire, lo dico io, lo dice Paolo Costa, che Suez si è riaperto, hanno allargato Suez. Cosa vuol dire? Che queste navi, che una volta facevano il giro sotto l'Africa, giravano attorno all'Europa e andavano su, adesso possono entrare direttamente, risparmio 3-4 giorni di navigazione, che per il costo di una grande nave così è enorme. Un costo per gli operatori gigantesco, che si scarica sui clienti e sulle merci, per cui è evidente che noi dobbiamo attrezzare il nord adriatico non più con queste navi, navetta, cioè scaricavano in Turchia, scaricano nel nord dell'Egitto e poi arrivavano queste navi più piccole, che per noi sono sempre grandi, ma sono piccoline, rispetto alle grandi navi. Noi abbiamo immaginato, anzi Costa ha immaginato, non io, Costa non oggi, ancora anni fa, un porto offshore fuori delle bocche di porto per poter intercettare, perché c'è la profondità, queste grandi navi. Con un sistema avanzato, perché non ci sia rottura di carico, si dice in termini tecnici, in maniera tale che noi già in quella base, noi costruiamo già i convogli, praticamente ci sono delle chiatte, delle gru automatiche, che pagherebbero i privati. C'è un grande operatore cinese, che è venuto anche da me a Venezia, perché si è visto fisicamente, la seracchiana dice non è vero, ma non è vero un cavolo, non è vero, è come? È soltanto la miopia di non voler capire che è un interesse di tutti, cominciare a pensare alla dimensione, tornando al discorso del referendum, alla dimensione dobbiamo diventare più grandi, dobbiamo metterci insieme con Trieste, con tutti quanti, con Ravena, con Chioggia, con Monfalcone, con Capodistria, dobbiamo assieme pensare a come organizzare una grande gestione di questo grande traffico, che oggi non c'è, non c'è nulla da portarci via tra me e Trieste. Con Di Piazza, secondo me, e con anche il sindaco di Capodistria, penso che ci sia la possibilità di fare una grande alleanza su temi, questi sul turismo, anche sull'aspetto internazionale di quest'area, cioè l'area deve essere vista assieme all'acqua, non dobbiamo immaginare che la terra sia soltanto la lingua di terra, cioè la nostra azione deve contemplare anche l'acqua, e per cui anche la pesca, non solo l'agricoltura, l'agricoltura sicuramente, perché abbiamo visto che è l'unico settore che in questi anni sta tenendo la filiera agroalimentare, che però non è che tenga così, tiene perché ci sono imprenditori che lavorano, persone che fanno fiere, gente che vende, che si smazza, l'altro giorno onore a queste persone che sono morte e stavano tutti lavorando in Bangladesh, tutti lavorando perché non riusciamo a costruire il PIN in Italia, dobbiamo andarlo a costruire all'estero, allora vogliamo capire che l'Italia si basa sull'impresa, sugli imprenditori, sui lavoratori, sulle persone che si fanno un mazzo così da mattina alla sera, sono questi che pagano le tasse, sono questi che pagano i servizi pubblici, e allora che poi spesso non gli diamo, che poi spesso non riusciamo a dargli, perché ci siamo inventati le pastoie burocratiche gigantesche e macchine, come quella del Comune di Venezia, per quello che ho trovato io, assolutamente disastrate, per cui che fanno acqua dappertutto, bisogna ristrutturare il sistema senza pensare che sia una parte che lo fa contro un'altra o contro qualcuno, nessuno ce l'ha con nessuno, non siamo lì per fare battaglie contro nessuno, qualsiasi critica, qualsiasi cosa che non facciamo bene, è giusto dirla, si può dirla in tanti modi, ognuno la dice con l'intelligenza che ha, e sta appunto all'amministrazione comprendere, e la nostra ha assolutamente sempre disponibilità a capire che se c'è una proposta migliore, altro che se la facciamo, l'ho detto tante volte all'opposizione, qualche volta faceva questi gruppi che non si capisce, queste associazioni di Zin 5, facciamo il numero chiuso, preparatemi una delibera che regga un ricorso al TAR, e io la firmo domani mattina, lo dico anche adesso, se c'è una persona, così sbuggiardiamo un po', vogliono prepararmi una delibera, una delibera però, no, ancora una volta un convegno, una roba, quelle bandiere rosse che ti metti davanti, siamo tutti amici, fratelli, fratelli e dopo ci mettiamo i canovacci, ecco quella roba lì va benissimo, però purtroppo non è governo, mi fai una delibera, già pronto, sindaco, eccomi qua, fai una delibera già pronta, io prendo, la porto in giunta, domani è operativa, deve essere una delibera l'unica cosa, agli avvocati famosi, una cosa, che regga un ricorso al TAR, perché se io vivo che impedisco alle persone di entrare in Piazza San Marco, l'ultimo che decide che non gli va bene, fa un ricorso al TAR, e il TAR gli dice, ma sei scemo, non puoi far questo, c'è la libertà di movimento in Europa, bisogna fare le cose con le leggi che ci sono, aspetta, nota bene, che non governo neanch'io, non è la mia maggioranza che governa a Roma, lo ricco per ricordarmi, perché sono filo governativo, ma non proprio completamente fuori, vedete un po' voi, si può fare opposizione quando si è anche al governo, se non è al governo, e voglio fare anche opposizione, è un po' strano questo, preparate proposte, e siamo ben lieti di accontentarvi, perché noi siamo soltanto cittadini, interessati a migliorare la città, appunto, senza polemiche politiche. C'è una domanda che non si può non fare al primo cittadino di Venezia, a proposito di macchine disastrate, il Mose, quando si può prevedere, si è detto nel 2018, cosa le risulta? Mi risulta che siamo messi male, mi risulta che ancora una volta, anche lì, io parlo intanto per me, ciò do informazioni sicure, finché parlo di me, e allora dico, io sono uno che ti fa che il Mose funzioni, non è così banale, nel senso che c'è di niente che, magari l'ha creato, magari ha votato quelli che l'hanno creato, però adesso, come sempre, non riconoscono il figlio, dico ragazzo mio, attenzione, ma poi tuo figlio te lo devi sempre riconoscere, per il tuo figlio, nel bene e nel male, quelle cose che avevi costruito, signori del passato, che avevi fatto sta roba qua, io mi candido, a dove lo gestire, se come il tram sta roba qua, stessa roba, allora, finché funziona, finché funziona, io mi sveglio alla mattina, il tram e il buco, il tram a seconda alternativa, il bilancio, bilancio e tram, allora, il Mose non ancora, perché non ce l'ho ancora nelle deleghe, però, sono così masochista, da averle anche chieste, perché, dobbiamo dare ai cittadini, assolutamente, la patria potestà, delle cose che li riguardano, il Mose per Venezia, è una cosa fondamentale, cosa vuol dire? il Mose è stato costruito, siccome il pubblico è largo, bisogna spiegare un attimo così, perché, certe cose non sono state mai ben spiegate, per cortesia, abbandoniamo un attimo, quello che deve fare la magistratura, la ricerca dei ladri, dei lazzaroni, eccetera, nel senso, abbandoniamolo, perché non è il mio compito, cioè la magistratura, i carabinieri, la procura, e vi garantisco che stanno lavorando, è anche molto bene, per cui, sarei abbastanza sicuro, da questo punto di vista, il punto è che, è una grande opera di ingegneria, il Mose, allora, perché è nato il Mose, a parte il perché poi l'hanno fatto così, è nato perché, nel 66, quest'anno ricorre il cinquantesimo anno, di questa disgrazia, e a Venezia, e anche a Firenze, per cui abbiamo fatto il gemellaggio, c'è stata l'acqua grande, cioè in sostanza, una cosa che ha distrutto, non solo il centro storico di Venezia, ma tutta l'entroterra, la terraferma, guardate che sono i danni in terraferma, enormi anche lì, per quello continuo a dire che Venezia è grande, ed è una Venezia che deve essere riconosciuta, in tutti i suoi luoghi, con umiltà, con sorriso, con amore, non con conflittualità, Mogliano-Veneta, in provincia di Treviso, ma noi la riteniamo a Venezia, cioè Treviso, per noi, Padova, è Venezia, Venezia nel senso, attenzione, importante, senza offendere a nessuno, ma più nobile del termine, Castelfranco, io adesso faremo il leone, con le gambe in acqua, che è lo stato del mar, e con le gambe davanti, in terra, con la montagnola, con sopra un cucuzzolo, una fortezza, che era il sistema delle fortificazioni veneziane, questo è il marchio di Venezia, della Serenissima, che non è mai stato contro le nostre genti, ma per le nostre genti, tornando al Mose, si è capito che c'erano dei cambiamenti climatici, e lo si è capito a Venezia, tanti anni fa, per dire il livello avanzato di questa città, ci siamo resi conto, e qualcuno ha detto, bisogna creare delle barriere a questa acqua, diciamo esagerata, per cui il Mose non bloccherà le acque alte, quelle normali, diciamo l'acqua alta, classicamente intesa, ma le acque eccezionali, si chiuderà, diciamo, o si aprirà, secondo come volete dire, si alzeranno le paratoie, 4, 5, 6 volte all'anno, non si può chiudere di più, perché per aprire le paratoie ci vogliono 4, 5 ore, per cui provate di immaginare, bisogna prevedere che c'è un'acqua eccezionale, poi devono essere chiusi le paratoie 4 ore prima, per cui la città si chiude, la laguna si chiude, si chiude a Lido, a Malamoco e anche a Chioggia, sono tre i luoghi questi, sono state affondate, qui entriamo nel progetto ingegneristico, è stata scelta una soluzione pesante, invadente, non reversibile, con tutte le critiche che si vogliono dare a questo tipo di soluzione, si è deciso di dare questa soluzione, e poi con una centrale operativa, che è all'arsenale, che deve governare la chiusura e l'apertura, io ho detto, non potete lasciarla soltanto a dei commissari, per quanto persone straordinariamente capaci, nel cercare anche le responsabilità, nel gestire, però non sono ingegneri idraulici, dobbiamo restituire alla città, la conoscenza di quello che sta succedendo, perché quando io chiudo il Mose, io chiudo il porto, allora abbiamo delle conche di navigazione, una conche di navigazione a Malamoco, che è sul canale di petrolio famoso, dove effettivamente noi, io e Paolo Costa, abbiamo riscontrato dal nostro punto di vista, delle inefficienze, mancano delle lunghezze, non c'è una dimensione tale, che consente di immaginare il porto del futuro, allora abbiamo detto, facciamolo offshore, ed era previsto questo, negli accordi col Cipe, per quello ci avevano finanzato 100 milioni, e per quello stiamo insistendo, che i 100 milioni ce li devono dare, non è contro nessuno sta cosa, ma è per la sopravvivenza della nostra città, io sono stato messo qua dai cittadini, e i cittadini rispondono, e i cittadini dicono, dobbiamo farla sta cosa, per il futuro di quella gente che sta lavorando, per quegli investimenti, dopodiché, il Mose è chiuso, non basta dire, lo verrà fatto nel 2018, se tu non mi porti i tempi, mi devi far vedere qualcosa, la città ha bisogno di qualcosa, lei chiede al sindaco, e il sindaco dice non so, le sembra una risposta accettabile, secondo me non lo è accettabile, allora io ho chiesto al governo, datemi un decreto, datemi i poteri del magistrato alle acque, il governo ha preparato un decreto, l'ha mandato in visione, al sovraintendente dei lavori pubblici, tale Daniele, che l'altro giorno sui giornali, si è scagliata contro sta roba, pareva che non sapesse fare niente, diceva che non aveva risorse, non voleva farlo, che era una disgrazia, però come gli togli un po' di potere a qualcuno, subito si alza, alzano gli scudi, non capisco il motivo, è una legge, l'onorevole Martella, ha fatto un emendamento due anni fa, PD, per dirlo, perché cosa meritevole a Cesare, quel che è di Cesare, ha fatto un emendamento che è diventato legge, che i poteri del magistrato alle acque, che vuol dire i poteri sulla navigazione, nel laguna, i poteri sulle briccole, che io oggi non ho, sulle briccole della città sì, ma dei canali, non ce li ha il sindaco, neanche il sindaco metropolitano, ce li ha, in questo caso, questo Daniele, il provveditore dei lavori pubblici, che però non ha le risorse, e poi lo Cristo, non gli danno niente, ma soprattutto non ha la città alle sue spalle, per cui ha anche, il magistrato alle acque, in questo caso il provveditore, ha addirittura le norme sul Mose, e attenzione, anche le norme per fare le parattie a Marghera, per le bonifiche, guarda quanta roba c'è, e allora siccome il magistrato alle acque, proprio come istituzione, è stato coinvolto anche nei scandali, io ho detto, Martella ha fatto l'emendamento, ha detto al governo, al Parlamento, dati i poteri alla città metropolitana, che sono io il sindaco metropolitano, il Parlamento l'ha fatta diventare legge, ma anche il decreto legge, per cui è già legge, deve diventare così, hanno preparato un decreto, io ho visto il testo, in maniera più o meno rocambolesca, mi hanno fatto vedere questo testo, dove si parla anche del Mose, e io credo che sia giusto, che la città, io che rappresento la città, possa dire ai cittadini, che cosa sta succedendo là, e se mancano risorse, bisogna dirglielo, non nel 2018, perché se no direttore, nel 2018 è come la leggenda, non finimo più qua, è come quando sei in mezzo a un guado, adesso bisogna finire, accelerare e finire, invece stanno finendo i soldi, le competenze tecniche, le aziende stanno chiudendo, si vuole chiudere TETIS, non c'è nessun programma di lavoro, per quanto riguarda l'arsenale, che era stato impostato, comunque in un certo modo, è una vergogna questa roba qua, il governo l'ha capito, secondo me il governo ha capito, che mi deve dare questi poteri, fa vederla circolare al direttore, per capire cosa ne pensa, e questo qua dice, no no non si può fare, perché non ci sono le risorse, intanto mi dai quelle che ci sono, e me le sposti, le paghi tu come Stato, a quei dipendenti, noi non gli cambiamo il contratto, restano i dipendenti statali, passano sotto la città metropolitana, ci danno tutte le risorse che servono, oltre a quello che ci serve, quante risorse, tutto quello che serve, perché quell'opera là va finita, e siccome quell'opera ci ha dato tante imprese per bene, perché oltre alle mascalzonate, ci sono state migliaia di persone che hanno lavorato per fare quell'opera lì, ci sono persone e competenze tecniche che possiamo andare a rivendere in tutto il mondo, bene sarà opportuno invece che questa città abbia il coraggio e l'orgoglio di ripartire, facciamo pulizia, la faranno i magistrati, noi dobbiamo completare le opere. Sì Dago, un'ultima domanda, abbiamo ancora qualche minuto, il comune, il comune, no, ridiamo perché mentre noi stiamo facendo l'intervista, ci bussano al finestro, ci bussano al finestro, adesso forse per lavare i vetri, vabbè ma adesso forse capiscono che devono ancora aspettare che abbiamo il sindaco qui, per una volta, ma noi siamo gente rispettosa, rispettiamo tutti, ma insomma adesso... No, ecco, l'ultima domanda, a Padova il sindaco Bitton ci ha messo un filtro agli ingressi dei giornalisti, no? Decisione che è stata subito contestata, perché i giornalisti nei comuni entrano abbastanza liberamente, no? Sì, beh, devo dire la verità che l'abbiamo fatta anche noi in parte in comune di Venezia, cioè, però voglio spiegarle, a Venezia non abbiamo messo nessun filtro ai giornalisti, c'era l'abitudine che una sala dove era davanti proprio la porta del sindaco potessero sostare i giornalisti, lì io ho deciso che non potessero stare i giornalisti, per rispetto alle persone che venivano in visita dal sindaco, non era giusto che fossero viste anche dai giornalisti, anche perché il sindaco fa incontri pubblici, ma anche incontri riservati, per cui abbiamo chiesto che ci fosse una zona, abbiamo ordinato che una zona fosse sgombra, ma solo una zona, salvaticello, sei a scatenare il mondo, eccetera, eccetera, come la storia di Elton John, quando io ponevo il tema è l'utero in affitto, ecco queste cose qua invece sono cose che un sindaco deve rivendicare, poi io non conosco la situazione di Pabllo e non so il limite, lei però lascia sempre, è aperta, le porte restano aperte, non possono venire, ci mancherebbe altro, consiglio comunale, basta che non entrano dentro di stanza da me, è aperto tutto, non ci mancherebbe altro, massimo rispetto per il lavoro di chiunque, ma proprio anche per questo, giusto anche massimo rispetto per il lavoro del sindaco, questo nella logica della responsabilità di ognuno, ognuno faccia bene il suo mestiere e non voglia far sempre il mestiere di un altro. Un'ultimissima domanda privata, sua moglie, i suoi figli, rispetto alla scelta di candidarsi, di entrare in politica, adesso dopo un anno, cosa le dicono? Beh, allora, devo dire che io ho condiviso con loro, i suoi piccolini no, evidentemente, ma anche quelli più grandi, glielo ho detto, quella volta glielo ho detto, guardate ragazzi, soprattutto a Stefano, ho detto guardate, ci offenderanno, ci attaccheranno, poi sai, noi viviamo in questa città, cioè, noi siamo parte, cioè non è che siamo gente che io giro in bicicletta, l'altro giorno ho detto, ma il sindaco fa la spesa, ma il sindaco fa la spesa, si guida la macchina sua, si spende i suoi soldi, io sono, ho il garage, sono proprietario di tutto, praticamente a Venezia, però io continuo ad andare in garage privato e mi pago il mio abbonamento, io sono quello che va e si spende, deve far farsi benzina con la sua macchina, ma mi parla, roba normale, attenzione, la gente mi guarda con due occhi così, ecco, Stefania gli ho detto, attenzione perché ci accuseranno, faranno offese, eccetera, nei fatti devo dire che lei ha accettato, mi ha aiutato, ha capito che è una questione di coscienza e questa condivisione secondo me ci ha unito ancora di più, è chiaro che devo ringraziare le persone che ci sostengono, per quello dicevo, perché capiscono la difficoltà personale di un cittadino che non chiede nulla in questa città se non che riusciamo a traghettare una cosa per qualcun altro che farà politica più specialistica, non saremo noi probabilmente, ma che possiamo pensare che questa città e se ce la fa a Venezia, io dico sempre, ce la farà l'Italia, perché il meccanismo, guardate che abbiamo trovato a Venezia, io temo che sia quello che c'è in Italia, c'è un meccanismo di irresponsabilità generale, quando si parla di macchina burocratica non si spiega bene la cosa, la realtà è che ci sono tanti interessi, piccoli o grandi che sono diffusi in maniera enorme, oggi è il tempo di costruire, di realizzare e non di spendere, per cui insomma, Stefania, grazie, ti amo, grazie dottore, complimenti, buon lavoro, grazie, grazie, non bisogno, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.